Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Dylan Dog. Continuiamo a parlare della serie regolare che da questo mese inaugura un trittico. Tre storie, una ogni mese, dedicate a delle canzoni di Vasco Rossi. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, condividete il video con tutte le persone che sono fan di Vasco Rossi e commentate qui sotto su quello che viene parso di questo numero e di questo video. Fatemi sapere se siete fan di Vasco, se non siete fan di Vasco e se siete fan di Vasco qual è la vostra canzone di Vasco preferita. Me la scrivete qua sotto, facciamo questo giochino. Voi me la scrivete nei commenti e io metterò il link alla canzone in modo che gli altri che leggono i commenti la ascolteranno. Dylan Dog 418, dal titolo Sally. Era da un po' nell'aria questo titolo che quasi io ci avrei fatto pure la battuta ma sarà mica la Sally di Vasco. Alla fine si è verificato proprio quello che pensavo. È la Sally di Vasco Rossi. Non è semplicemente ispirata alla canzone di Vasco Rossi ma c'è una vera e propria collaborazione ufficiale e lo capiamo dal fatto che Dylan Dog è spalla a spalla con il rocker di Zocca. Dylan Dog ha citato tantissime volte nella storia, nella sua storia un sacco di canzoni dal metal al blues, alla musica classica e il trillo del diavolo stesso di Dylan Dog che cerca di suonare ogni tanto. Abbiamo fatto anche noi il 30 maggio una live in cui ci siamo lanciati su Dylan Dog e tutte le musiche che sono apparse in Dylan Dog che a saperlo avremmo aspettato almeno questi tre numeri, avremmo parlato anche di Vasco. Se volete vi metto qua il link e anche qua in descrizione alla live perché anche lì trovate nella descrizione di quella live tutte le canzoni che si possono trovare in Dylan Dog. Quindi Dylan è sempre stato molto citazionista per quanto riguarda la musica in generale. Qua c'è però una collaborazione ufficiale dove tutta la canzone, tutta la trama della canzone perché comunque le canzoni, non tutte ma le canzoni fatte bene, sono delle piccole storie, dei piccoli mondi. Hanno una trama, uno svolgimento, una fine dolce amara o una fine gloriosa o una fine triste. E lasciate che ve lo dica, per quanto potreste non apprezzare Vasco come personaggio pubblico, come personalità, le tre canzoni che hanno scelto, in particolar modo Sally che è la mia preferita delle tre, sono adattissime allo stile che può incarnare una storia di Dylan Dog. Apro una piccola parentesi sul mio livello di conoscenza di Vasco Rossi giusto per dare un'idea alle persone che vengono per la prima volta nel mio canale spinte appunto da Vasco Rossi più che da Dylan Dog. Ora io non sono un fan di Vasco Rossi, non sono sfigatato, non vado ai concerti, ma sono comunque appassionato delle sue canzoni. In particolar modo ho seguito l'album Stupido Hotel nel 2002, se non sbaglio, seguito nel senso che quando è uscito l'ho vissuto, insieme, non direttamente ma perché avevo molti amici che lo ascoltavano e quindi in presa diretta mentre uscivano quelle canzoni io le ascoltavo. Tutte le altre canzoni le ho recuperate successivamente e devo dire che sono un grande amante delle canzoni d'amore di Vasco. C'è anche un album proprio in cui queste canzoni d'amore vengono racchiuse. Se lo trovo ve lo metto qua sotto in descrizione nei miei link Amazon così vi fate magari un ascolto di queste canzoni. Secondo me tra le canzoni di Vasco le canzoni d'amore sono quelle dove Vasco dà il suo meglio, quantomeno tra quelle che ci sono in quell'album. Poi il Vasco recente magari può piacere un po' meno, può essere un po' più autocitazionista, ma le canzoni storiche, le canzoni emblema come appunto Sally, Alba Chiara, Jenny che sarà la prossima ancora, ma anche Laura che aspetta un figlio per Natale e tutte le varie ragazze senza nome a cui Vasco ha dedicato canzoni come La strega, la diva del sabato sera, Brava, quella per cui Vasco ha perso un'occasione per colpa di Alfredo. Ma la particolarità di Sally è che è una canzone vista dal punto di vista di Sally stessa in un certo senso. Vasco la racconta in terza persona, ma riusciamo a percepire il vuoto esistenziale che attraversa Sally. Ed è forse per questo che è una delle mie canzoni preferite di Vasco, oltre che la mia preferita delle tre storie che narreranno in questi tre mesi. Se per caso non vi piace la voce, la canzone e lo stile di Vasco, vi ricordo che Sally la potete trovare anche cantata da Fiorella Mannoia. Ve la metto sempre qui sotto così magari vi piace. Magari se non vi piace proprio Vasco come personaggio potete andare oltre e concentrarvi sulla canzone. Questo è un albo di 116 pagine, le 94-98 classiche dedicate alla storia. Se voi lo aprite in questo senso, dove ci sono in copertina Dylan Dogg e Vasco, troverete prima il testo della canzone di Sally, poi la solita intro di Roberto Recchioni e poi la storia. Se invece lo aprite in quest'altro senso, troverete uno speciale dove si intervistano prima Vasco Rossi, e poi Paola Barbato, autrice di questa storia, di questa rivisitazione secondo le sensazioni che ha dato a Paola Barbato questa storia, e al disegnatore Corrado Roy. E Dulcis in fundo ha anche una chiacchieratina di qualche riga con Tiziano Sclavi. Ma so che morite dalla voglia di sentire il mio parere sulla storia in sé. Volete sapere se mi è davvero piaciuta o se malgrado tutte queste premesse mi ha fatto schifo? Ragazzi, la storia è molto bella, la storia è davvero bella. Ve lo dico come se mi facesse schifo Vasco. Nonostante sia tratta da una canzone di Vasco, è comunque molto bella, nel senso che se anche voi detestate questa canzone, questa canzone avrà qualche momento ridondante in alcune tavole, quando proprio Jenny, scusate, quando proprio Sally cita le canzoni, cita alcune strofe della canzone, alcuni versi della canzone. In quei tratti li ho trovati, io personalmente che ho quel livello di passione per Vasco, li ho trovati un po' fastidiosi. Magari il fan sfegatato di Vasco, che non ha mai preso in mano un fumetto, legge il testo di Sally nelle parole di un personaggio dei fumetti e impazzisce. O, d'altro canto, una persona che non conosce minimamente il testo di Sally, lo legge nelle parole di un personaggio e dice Ah, toh, è la stessa della canzone. Io che sono in quella via di mezzo, ho detto, minchia, ok, la so la canzone, ragazzi, basta, non dovete sempre ripeterla. Però sono sicuro che, dato che questa è palesemente un'operazione anche commerciale per portare la fanbase di Vasco verso Dylan Dogg, ovviamente, non i giovani, i giovani non ascoltano Vasco, i giovani non sanno neanche chi è, probabilmente. Non è per portare nuovi lettori a Dylan Dogg, né tantomeno per portare lettori di Dylan Dogg verso Vasco Rossi, che penso che Vasco non abbia bisogno di un nuovo seguito di Laniato. È proprio perché la fanbase di Vasco Rossi è devastantemente ampia, cioè roba che riempie tranquillamente uno stadio. Tutta questa fanbase potrebbe tranquillamente non conoscere Dylan Dogg, comunque non seguire o non apprezzarlo, e tutta questa fanbase, ma anche solo il 10%, potrebbe acquistare il fumetto di Dylan Dogg anche solo per collezionismo e magari gli dà una sfogliata sotto l'ombrellone, lo apprezza e magari ci si guadagna da una forte fanbase di Vasco o una nuova fanbase di Dylan Dogg. Non nuova a livello anagrafico, ma comunque una solida fanbase aggiuntiva a quella che già il nostro indagatore dell'incubo ha. E dicevo, dato che è palesemente un'operazione commerciale per attirare il fan sfegatato di Vasco verso Dylan Dogg, sono sicuro che sarà più probabile il caso che ho citato all'inizio, cioè dove il fan sfegatato, che non ha mai preso in mano magari un fumetto, legge Sally che recita la canzone Sally, si strappa le vesti dalla gioia, quindi penso e spero che si vada in quella direzione. Ma a parte questo, la storia è davvero piacevole per tutti. Innanzitutto Paola Barbato ultimamente sta sfornando delle perle davvero apprezzabili. L'ultimo Dylan Dogg che ho apprezzato tantissimo della serie regolare era sempre della Barbato, anche qui ha sfornato un'altra piccola perla perché nonostante si parta dai presupposti di una canzone di Sally e ci si attenga parecchio alla storia di Sally, non, come si dice, non manca il fattore Dylan Dogg, ovvero, mi spiego, avete presente quando abbiamo detto anche ultimamente in alcune live, in alcuni video, questa è una storia carina ma poteva benissimo non esserci Dylan Dogg, poteva benissimo esserci Pinko Pallino e sarebbe stato uguale. Io l'ho detto per Vendetta in Maschera, se non sbaglio Luca DJ nella scorsa live l'aveva detto per una delle due storie del Color Fest, io stesso l'avrò detto in qualche altro, sicuramente in qualche numero dell'All Boy, nell'ultimo sicuramente l'ho detto. Ecco, in questo caso non c'è questo problema, non è una storia che poteva essere di chiunque, ma è capitata Dylan Dogg e ok Dylan Dogg e Vasco insieme. No, no, qua c'è l'elemento Dylan Dogg, ragazzi, qua ci sono gli zombie, ci sono i non morti. Se siete stati molto attenti, noterete che nell'editoriale di Recchioni è cambiata la frase iniziale, non c'è nemmeno più la frase che cita Ghostbuster, ovvero se uno spirito sumerio infestasse il vostro frigorifero, lui sarebbe la persona giusta a cui rivolgersi è anche l'unica. Non cita più Ghostbusters, anche perché, come ho detto, magari il fan medio di Vasco non conosce Ghostbusters, e dice, ma che cazzo sta dicendo questo qua? Ma Dylan Dogg non parla di zombie, perché mi citi una divinità sumera? Ah, esplodo! Allora Roberto Recchioni ha ben pensato di andare pulito e dire, se uno zombie vi si dovesse presentare sull'uscio di casa, lui sarebbe la persona giusta a cui rivolgersi. Quindi ragazzi, qua gli zombie ci sono, ci sono e come. È una storia dove Sally, una persona che ha vissuto la propria vita, ne ha passate tante, e al punto che ormai non prova più emozioni, si sente morta dentro, si sente vuota. Quante persone, appunto, non i giovani, non di primo pelo, che spero proprio per loro che siano piene di emozioni, ma magari le persone con il 3 davanti al numero, le persone ultra trentenni, le persone quarantenni, quante ne hanno passate? Quante volte magari si sono sentite vuoti dentro per tanto tempo, apatici, perché hanno sofferto magari talmente tanto, hanno provato talmente tante emozioni, anche negative, che ormai tutto gli scivola via, ma è uno scivolare via che non piace, perché quasi si preferirebbe il dolore, quasi si preferirebbe soffrire, perché soffrire è sinonimo di vivere, mentre se non si prova nulla, si è come morti, ed è questo che prova il personaggio di Sally in questa storia di Dilan Dog, e devo dire che è azzeccatissimo per come anch'io percepivo la Sally di Vasco Rossi. Però c'è l'elemento fantasy, c'è l'elemento paranormale, che molto spesso in Dilan Dog non c'è, proprio perché le storie sembrano poter essere raccontate da chiunque e ci incappa Dilan Dog, qui invece c'è proprio l'elemento zombie. Sally si sente morta dentro e apparentemente lo è davvero, a quanto pare c'è una storia di zombie, c'è uno Xabaras in erba, anzi mi è piaciuto molto, ci ho sperato che ci fosse anche Xabaras di mezzo a un certo punto, c'è un discepolo, diciamo, un discepolo inconsapevole di Xabaras che ha creato una sorta di siero che crea degli zombie. Un po' un peccato il fatto che non abbiano né citato Xabaras, almeno nel finale, o non so che Xabaras avesse potuto prendere il siero da questa persona, Marvin se non sbaglio si chiama, e mi è dispiaciuto anche un po' che non sia stato Xabaras stesso in realtà a generare gli zombie o comunque ad aiutare Marvin o a collaborare con Marvin perché sarebbe stato molto più collegato alla storia di Dilan Dog e ci speravo che in un numero, perché questo ragazzi è un numero da cui si può partire, è un numero uno, lo hanno fatto appunto per una fanbase molto grande che vogliono imbutare in Dilan Dog, quindi ci hanno messo l'elemento zombie, se ci avessero messo l'elemento Xabaras sarebbe stato una figata unica. Ci hanno messo questo Marvin, ma va bene così, va benissimo così. Proprio perché c'è tanta carne al fuoco in questo numero e ovviamente il piatto principale è Vasco Rossi, quindi a livello anche commerciale è stato spinto perché c'è Vasco Rossi e in secondo luogo si capisce che c'è la Sally di Vasco Rossi e poi in terzo luogo si capisce che la Sally di Vasco Rossi in questo numero di Dilan Dog è uno zombie, passa un pochino in secondo piano un argomento che secondo me è molto importante, molto di attualità e che è bene che Dilan Dog lo tratti che è la violenza sulle donne, la violenza sulle donne anche in senso lato. Se voi ci fate caso, questa Sally è ridotta così dal personaggio di Marvin perché il personaggio di Marvin rappresenta anche il classico tipo di uomo che non accetta un no come risposta. Mi hai tradito Sally? No, non ci credo. Io sono geloso, ma ti ho detto di no, ma io non ci credo perché arrivato a quel punto non è più importante neanche qual è la verità, ma è importante che lui si affidi alla sua gelosia, alla sua rabbia. Questo è un esempio di un tipo di uomo, ma c'è anche un altro tipo di uomo, anche peggiore, anche se è lo stesso tipo di uomo solo all'ennesima potenza, che è quel tipo di uomo che piuttosto che non avere la moglie, la moglie, la compagna, la donna al proprio fianco, piuttosto che non averla con sé, piuttosto che vederla andare via magari con qualcun altro perché nella testa di questi uomini una donna si può allontanare da un uomo solo perché c'è un altro uomo, non perché vuole essere indipendente, piuttosto che allora la ammazza e qua è il boss mafioso che presumo sia un boss mafioso per come lo trattano all'inizio del terzo atto quando si vedono tutti gli altri che sono stati iniettati da questo siero della verità post-mortem, si vede la moglie di questo uomo facoltoso, probabilmente un boss della mala, che è chiaramente stata uccisa da lui perché probabilmente voleva andarsene, voleva andarsene via. Lui l'ha uccisa, ha usato questo siero probabilmente anche lì per sapere la verità ed è rimasta con sé. E lo vediamo alla fine quando viene ammazzata da Marvin che lei fondamentalmente preferiva finire la sua vita piuttosto che stare tutta questa vita post-mortem con quest'uomo qua. Una lettura interessantissima di questa storia che potrebbe passare un attimino in secondo piano se non ci fate caso una lettura veloce ma vi consiglio di rileggerlo, comunque di assaporare ogni piccolo aspetto di questo numero non fermarvi solo magari agli aspetti puramente commerciali. Anche in questo numero sempre della Barbato ho trovato un Graucio Marx perfettamente sul pezzo che fa battute sagaci, fa anche battute con i giochi di parole come è giusto che le faccia perché comunque ci sta Graucio è così ma è sempre sul pezzo è sempre presente non è fuori dal mondo non dice cavolate non è immerso nel suo mondo è pienamente consapevole di dov'è Dylan in questo momento Dylan in questo momento è tenuto sulla corda da una ragazza che non lo vuole lasciare ma neanche gliene frega niente di lui e Graucio gli sta dando dei consigli da amico. Mi piace come usi le battute per consigliare Dylan ciò nonostante è comunque molto presente anche quando si tratta di seguire Sally di assicurarsi che quando è in bagno stia bene non è un eterno pagliaccio Graucio, Ragna, Carpenter tutti presenti molto dosati perfetti molto 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 bene mi spiace non ci sia stato Block ma magari lo vedremo nei prossimi numeri lo spero appunto per i fan di Vasco che si affacciano a Dylan Dog che possano conoscere anche l'ispettore Block il padre di Dylan Dog il padre adottivo di Dylan Dog per quanto riguarda i disegni cosa devo dire è Corrado Roy ragazzi è assoluto cioè va benissimo però un piccolissimo appunto è piccolissimo appunto su al nei primi momenti e soprattutto anche quando vedevo le anteprime sui social così Sally come figura come personaggio mi ha ricordato un po' come Roy aveva disegnato Anna Never e non mi è piaciuto molto perché se cioè somigliava troppo Anna Never temevo che poi o sarebbe stata ancora Mater Morby oppure ci sarebbe stato un banalissimo caso di somiglianza con un altro personaggio importante che magari avrebbe confuso le persone poco attente che poi avrebbero recuperato Anna Never devo dire che invece se si sfoglia bene il numero soprattutto in alcuni primi piani Sally ha una sua identità precisa ha un suo tratto marcato dei delineamenti più italiani diciamo del solito per Roy quindi con un naso particolare una bocca particolare in alcuni in alcuni primi piani non in tutte però mi è piaciuto devo dire come sempre poi farò un video sulla mia Instagram TV dedicato solo alle tavole ai disegni in cui sfoglieremo velocemente la storia per vedere come Roy l'ha portata alla luce alla vita alla fine di questi tre mesi sicuramente farò o un video o una live speciale dedicata proprio all'incontro Dylan Vasco quindi ci concentreremo esclusivamente su questo su questo esperimento commerciale non sulle storie in sé su cui voglio concentrarmi mese per mese e vi ricordo anche che domenica sera domenica 4 luglio alle 20 e 30 alle 8 e mezza ci sarà una live speciale Dylan Dog sarà una live speciale dal titolo Mater Morby dove ci concentreremo su una tematica importante trattata da Dylan Dog che è Dylan Dog e la malattia o Dylan Dog e la salute che dir si voglia avremo come ospiti anche una psicologa che ci parlerà di alcuni aspetti della malattia in generale poi ci concentreremo appunto sulla malattia vista dai fumetti di Dylan Dog avrò anche i miei soliti co-host seguiteci alla fine di questo video troverete il link per questa live ve la metto qua sotto anche in descrizione impostate il promemoria così ci vediamo tutti domenica sera nonostante sia una live tematica comunque non mancheremo di parlare di questa operazione Vasco Rossi nella seconda parte della live ovviamente io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qua e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video vi ringrazio